Il più cordiale buon lunedì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Oggi giornata internazionale dei musei. Riaprono al pubblico Castel Sant'Elmo e la Certosa di San Lorenzo. L'anfiteatro campano di Santa Maria Capoetere rispetta il giorno di chiusura ordinario ma riaprirà domani martedì 19 maggio. Le riaperture degli altri luoghi seguiranno un piano graduale, progressivo e sostenibile che sarà comunicato tempestivamente sul sito istituzionale e sui canali social ufficiali della direzione regionale Musei Campania. La provincia di Caserta ha i suoi luoghi del cuore. Il Fondo Ambiente Italiano ha lanciato sui media il decimo censimento i luoghi del cuore e la classifica in terra di lavoro è guidata dalle case a botte del borgo Priori di Santa Maria a Vico. Sono al 148esimo posto nella graduatoria nazionale. A seguire il Palazzo Ducale di Piedimonte e Matese, terzo il Palazzo Reale di Caserta, quarta la reggia di Carditello. E prende il via oggi Scuola Futura, il primo hackathon nazionale online della scuola italiana promosso dal MIUR. In programma fino al 20 maggio prossimo. L'iniziativa è nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. La cerimonia di apertura questa mattina. L'evento didattico e formativo vede coinvolto l'Istituto Giordani di Caserta, guidato dalla dirigente Antonella Serpico. E oggi, in collegamento Zoom, a partire dalle 18.30 e con diretta Facebook sulla pagina del Rotary Club Caserta Luigi Vambitelli, la tavola rotonda dal titolo Come sarà la sanità in Campania dopo il Covid-19 tra scelte economiche e sociali. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci. Un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie in positivo su ondawebtv.it